Caro popolo d'Egitto, al-salamu alaykum, la pace sia con voi. Con cuore gioioso e grato verrò tra pochi giorni a visitare la vostra cara patria, culla di civiltà, dono del Nilo, terra del sole e dell'ospitalità, dove vissero patriarchi e profetti, ed dove Dio, clemente e misericordioso, l'Onnipotente e unico, ha fatto sentire la sua voce. Desidero che questa visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente, un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell'Egitto e della Regione, un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico, in cui l'Egitto occupa un posto di primo piano. auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa copto-ortodossa. Il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cieca che ha colpito anche il cuore della vostra cara Terra, ha bisogno di pace, di amore e di misericordia. Ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi. Ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità. Grazie.